Siamo qui davanti alla futura casetta dei libri per parlare di piano urbanistico comunale. Il 31 gennaio, ultimo aggiornamento di questa lunghissima garelle, è stato ufficialmente revocato l'atto di adozione, secondo noi illegittimo, secondo l'amministrazione probabilmente illegittimo, del PUC. A tutti gli effetti si ritorna indietro. Dopo mesi in cui abbiamo ripetuto che tutto quello che era presente nel piano, sia dal punto di vista formale, è stato adottato in giunta invece che il Consiglio, come prevedeva il nostro statuto, sia dal punto di vista sostanziale, cioè tutto quello che era previsto in un piano che di fatto non prevedeva nessun futuro per la città, è stato rilevato finalmente dall'ufficio tecnico e dall'aggiunta che ha decretato la revoca di quest'atto. Che cosa comporta questa scelta? Poche cose. Per esempio buttare via otto mesi di lavoro dell'amministrazione intera. Tutto quello che è stato il post-adozione, le osservazioni di 168 cittadini che, come leggiamo nella delibera, hanno comportato la rilevazione di alcuni motivi di annullamento dell'atto. Per esempio, la perequazione nel quartiere Belvedere. Avevamo rilevato come nel quartiere Belvedere si fosse provveduto ad isolare il quartiere, ad isolare anche i comparti edificatori, invece di prevedere quello che era già previsto. Una villa comunale, l'utilizzo degli standard nella perequazione è allargata e non ristretta. La scelta di utilizzare gli spazi di edificabilità per trovare degli standard utilizzabili e non degli spazi verdi per portare i cani in giro. Oppure quelle che sono le previsioni di allargamento della visione di città, quelle che sono le previsioni di adeguamento rispetto a quelli che sono i PUA, i standard internazionali, gli standard nazionali. Tutto questo è venuto a mancare. È venuto a mancare l'aggiornamento delle cartografie che era previsto nell'accordo con Mate e che Mate non ha sanato. Quello che noi ci chiediamo è perché siamo arrivati alla fine di questo procedimento, ad annullare dopo aver ricavato in 60 giorni 168 osservazioni, dopo aver costretto svariate decine di cittadini a ricorrere al targo un investimento di soldi privati per questo ricorso. Perché arriviamo solo oggi all'annullamento di questo atto? Nell'atto leggiamo che il PUC che avevamo adottato era carente, eppure l'adozione del PUC era venuta in giunta. Perché ci accorgiamo solo ora che il PUC era carente dal punto di vista sostanziale e formale? Sabato nella conferenza stampa il sindaco e il dirigente del settore tecnico, nonché responsabile unico del procedimento del PUC, ci hanno detto che è stata una strategia. Hanno usato parole forti. Hanno detto che era in una città come Battipaglia, con i tanti interessi, un intervento dell'ufficio tecnico sui lavori del PUC avrebbe decretato la morte dell'ufficio tecnico, in qualche modo rappresentando che l'amministrazione può decidere, come in questo caso, di non amministrare. Addirittura è stato detto che le linee guida che erano state indicate all'azienda non fossero state rispettate dall'azienda e quando è stato chiesto chi pagherà di questo progetto e chi provvederà a fare il PUC da capo, ci è stato detto che provvederà a Mate, l'azienda che l'ha appena fatto e probabilmente senza prendere altri soldi. A questo punto noi ci chiediamo innanzitutto se l'amministrazione avrà il coraggio di chiedere i danni a Mate per il tempo perso, per l'anno trascorso per un piano completamente sbagliato nella forma e nella sostanza, per i soldi e il tempo che hanno investito i cittadini nei ricorsi, nelle osservazioni e nell'attivazione delle norme di salvaguardia che hanno impedito agli imprenditori di poter edificare in questo lasso di tempo in cui era attivo lo studio del PUC. Ma la domanda più grande che ci poniamo è, se i consiglieri comunali avevano rappresentato queste carenze già da mesi, che senso ha avuto modificare lo statuto e non permettere più ai consiglieri comunali di intervenire nei lavori del PUC? Cara sindaco francese, se avesse ascoltato i consiglieri comunali per tempo, probabilmente questo PUC sarebbe stato revocato molto prima, impedendo ai cittadini di dover dare senso alle proprie risorse ricorrendo contro questo atto scelerato. Quello che abbiamo visto questa volta è veramente allucinante, addirittura abbiamo visto un'osservazione presentata dallo stesso ufficio tecnico, quell'ufficio che è responsabile del procedimento e non del provvedimento. A questo punto ci chiediamo chi pagherà? Avrà il coraggio l'amministrazione? Noi chiederemo di agire in danno verso l'azienda Mate, che è chiaramente responsabile di un progetto che non ha avuto futuro e che non avrà futuro. Da oggi, dopo un anno di sventolamento di bandiere e di cassetti chiusi, il famoso PUC che avrebbe cambiato le sorti della città non solo non le ha cambiate, ma è stato annullato dalla stessa amministrazione che l'aveva promosso. Grazie.